la comunità hip hop è sconvolta per la morte del popolare rapper del maryland ellon bushrod junior conosciuto con il nome d'arte lonnie da gott secondo quanto si apprende stato ucciso a colpi di arma da fuoco all'inizio di questa settimana a baltimora aveva solo 24 anni la tragedia è emersa martedì mattina dopo che la polizia è stata avvertita riguardo una sparatoria in strada quando le forze dell'ordine sono arrivati i medici di baltimora avevano già dichiarato la vittima morta sul posto dopodiché la madre kia fenner bushrod ha successivamente confermato la sua identità alle autorità le forze dell'ordine al momento stanno indagando per capire che abbia ucciso il popolare cantante per capire che abbia ucciso il popolare cantante